Assessore Bucci, la mancata reattivazione del tram di OPC sta creando tante polemiche e si è arrivata addirittura al punto di una richiesta da parte dei 5 Stelle e delle sue dimissioni. L'imperparazione dei 5 Stelle credo lo vediamo anche a livello nazionale con la gestione della capitale Roma. I loro rappresentanti a livello locale dimostrano altrettanto. Il problema del tram di OPC è un problema estremamente complesso. L'amministrazione ha fatto quanto doveva e quanto poteva. Lo stesso lo ha fatto la Trieste Trasporti in collaborazione con l'Ustif, in collaborazione con la Regione. Oggi, questa sera, presenterò in Sala del Consiglio tutte le risposte alle interrogazioni che mi sono state sottoposte perché politicamente ed istituzionalmente è corretto rispondere all'Aula e non fare polemiche sui giornali. Purtroppo tant'è, ne prendiamo atto, dalle risposte aprirà chiaro la volontà, ovviamente l'interesse da parte di questa amministrazione nel ripristinare questo tram attraverso i tecnicismi che sono particolarmente complessi e soprattutto comportano degli investimenti che sono investimenti importanti. È giusto che l'utenza lo sappia che il tram di OPC ha bisogno, stando a questi dettami tecnici, degli investimenti che superano i 5 milioni di euro. Allora, la volontà politica c'è, l'interesse politico anche, in quanto il tram di OPC ha oltre a essere un trasporto pubblico e anche un servizio di carattere turistico. Però bisogna mettere i finanziamenti ed eseguire quanto richiesto da un organo di controllo, quindi non da parte nostra ma bensì dell'organo di controllo nazionale.